Il paradiso delle signore, trama puntate, venerdì 3 dicembre 2021. Adelaide ha sempre più dubbi su Flora e non si fida di lei. Nel frattempo Umberto cerca di fare il possibile per calmare tutta l'attrazione che prova nei confronti della ragazza e cerca di nasconderla. Ancora una volta si rifugia tra le braccia della contessa ma teme che il suo segreto possa presto venire a galla. Stefania fa sapere a Ezio di aver pensato molto a lungo alla proposta da lui ricevuta nelle ultime settimane. Ha preso una decisione definitiva in merito alla possibilità di recarsi a vivere con lui. Marco inaspettatamente chiede a Gemma di fare qualcosa insieme e di passare del tempo insieme a lui. La ragazza prova a dire di no e a resistere ma alla fine cede per via dei sentimenti che prova. Salvatore sente per caso una conversazione sospetta tra Don Saverio e Armando. Il ragazzo intuisce che ci sia una relazione tra Ferraris e Agnese e così va subito a chiederlo a Tina. La giovane prova a tenerglielo nascorso ma poi gli confessa la verità. Salvatore non contiene la rabbia che prova verso la madre e va subito via di casa. Grazie. Grazie.